Ora Roma dove è emergenza topi. Ieri un vertice nel Campidoglio, previste per la prossima settimana le prime misure di deratizzazione. Ma andiamo nel centro della capitale dove per noi c'è Laura Cerveglione. Buon pomeriggio a voi da questa Roma che sembra davvero non appartenere più ai romani ma ai piccioni, agli storni, ai gabbiani e adesso anche ai topi. Allora diamo il benvenuto sul Rai News 24 a Roberto Lupo che è esperto di servizi di igiene ambientale per l'Antisimex e gli chiediamo subito ma come mai ci sono tutti questi roditori a Roma? Buon pomeriggio a tutti. Diciamo che ci sono una serie di cause. La prima è che nell'ultimo anno ci sono state delle temperature molto più alte del normale e questo favorisce la proliferazione più rapida dei roditori. Ma c'è anche un altro aspetto, è probabilmente legato alla raccolta dei rifiuti. Appunto noi adesso ci troviamo proprio a Roma, in centro storico, dove il problema dei rifiuti un po' si fa sentire. Sì, come tutti sappiamo oramai esiste quasi dappertutto nella città di Roma come in altre città d'Italia la raccolta dei rifiuti differenziate, nel centro è attiva la raccolta porta a porta e questo significa che comunque stazionano rifiuti per ovvi motivi, perché è impossibile raccogliere subito, stazionano dei rifiuti forse più a lungo di prima e questi rifiuti poi garantiscono cibo ai roditori che sono commensali dell'uomo, come del resto anche piccioni. Eh sì, i topi che litigano tra l'altro proprio per accaparrarsi i rifiuti con i gabbiani, con i piccioni, ma in una scala di pericolosità zoologica, come li collochiamo i topi? Beh, anche i piccioni possono trasmettere delle malattie all'uomo, ma i topi in maniera particolare e c'è anche un problema dello smaltimento delle carcasse e dei roditori, quindi i topi morti, che spesso possono causare delle malattie ma i topi vivi, quando ancora non sono morti, causano dei danni sostanziali. Il Campidoglio ha già approntato un piano antiratti, lo vedremo nei prossimi giorni, ma intanto ci spiega in pochissime parole come funziona una derattizzazione. Non conosco esattamente i dettagli di quello che verrà fatto dal Campidoglio, sicuramente la derattizzazione non va vista come un intervento mirato alla risoluzione del problema ma va vista come un'attività costante di monitoraggio e periodica, quindi non una volta all'anno ma con cadenza anche mensile per verificare la condizione della nostra città e i punti in cui poi bisogna intervenire con maggior assidità. E sicuramente poi il Campidoglio chiede la collaborazione attiva anche da parte dei cittadini visto il problema legato fortissimamente anche a quello dei rifiuti per risolvere quest'ultima piaga zoologica che sta interessando la capitale in questo momento. Lina allo studio.